Non è più solo il Manfredoni al comando del Gionea di eccellenza. Il Corato vince, sorpassa il Biceglie ed aggancia Sipontini in vetta. Bravi neroverdi a sfondare il muro Foggia e Cedit nel prosieguo della gara valida per la sesta giornata, sospesa per l'infortunio dell'arbitro Aremondo di Taranto, e una conclusione chirurgica di Diomandè nel quarto della finale a mandare in orbita gli uomini di Fabio Di Domenico, entrati fin da subito con l'obiettivo del bottino pieno. Due cambi nel Corato rispetto all'undici vittorioso contro il Manfredonia, fuori gli indisponibili Zazza e Baie, dentro l'Under Spadavecchia a sinistra e fra Pampina sul versante destro dell'attacco. Foggia e Cedit nel segno della continuità, stessa formazione in campo a Polignano la scorsa domenica, con Gonzales ancora relegato in panchina, squalificato l'allenatore della Salandra, sostituito dal vice schiavone. Pronti via e gli ospiti regalano un brivido al pubblico del Coppi. Dopo una manciata di secondi, Ambrosino si gira e calcia, a Dario bravo ne respinge una conclusione tutt'altro che agevole. Il Corato comincia però a carburare, imponendo un ritmo tambureggiante sulle corsie. Fra Pampina sgasa e mette in mezzo, palla che passa tra un paio di gambe, ma Diomandè da due passi fallisce un gol già fatto. La costante neroverde si chiama Nicola Brandonisio, qui caparbio nel recuperare palla, servizio per Fra Pampina che calcia di prima intenzione. Ci vuole un super Caparro nel rinviare l'1-0. Questo però arriva a 12 minuti più tardi. Al 78esimo ancora Brandonisio fa terra bruciata sulla destra. Vede a rimorchio Diomandè, destro imprendibile per Caparro e 1-0 Corato. Primo centro in campionato per il centrocampista Evoliano che riscatta l'errore iniziale. Schiavone si gioca la carta Gonzales per Stancanelli. Di Domenico risponde con Suriano per Bozzi. Nel finale non succede però nulla. Legna solo tanto nervosismo con il foggiano la zazzera espulso dalla panchina. Termina 1-0 per il Corato e dalla tribuna viene intonato il coro salutato alla capolista. Presto sì fare previsioni dopo otto giornate, ma la formazione neroverde è decisamente sul pezzo. Domenica allettante impegno al Poli contro l'altra rivelazione Borgo Rosso Molfetta. Resta penultimo in classifica il Foggia in Cedit. Imperativo muove della classifica nell'incrocio con il Canosa.